This is the Tech Tape Show on air every day. Indie music from Tavern di Corciano to the world. 21.1. Il giusto peso delle cose. 2.1. Il giusto peso delle cose. 2.1. Il giusto peso delle cose. 3.1. Il giusto peso delle cose. 3.1. Il giusto peso delle cose. 4.1. Il giusto peso delle cose. 5.1. 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 Il giusto peso delle cose. 6.1. Il giusto peso delle cose. 6.2. Il giusto peso delle cose. 6.2. Il giusto peso delle cose. 6.3. Il giusto peso delle cose. 6.4. Lei vampira. 6.3. Withinulse Primark. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti